ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video lo sapete quando inizio il video così parliamo nient'altro che di auricolari true wireless in questo caso l'ultima novità di jabra che sorpresa delle sorprese è economica infatti il prezzo di queste jabra elite 3 da poco annunciate di soli 79 euro un prezzo più che accessibile soprattutto in un mercato che propone alternative sempre più costose che superano abbondantemente i 200 euro come per esempio le sony uf 1000 xm 4 79 euro per delle jabra che hanno tantissime sorprese all'interno ma che ovviamente per questa fascia di prezzo rinunciano alla cancellazione attiva del rumore prima di continuare con la recensione completa vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche l'unico vero modo che avete per supportarvi in modo che possa portarvi prodotti sempre più curiosi e interessanti detto questo vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale telegram dedicato alle offerte il link lo trovate sempre qui sotto nella descrizione insieme a tutti gli altri social jabra elite 3 hanno un prezzo davvero competitivo e una confezione già attenta all'ambiente infatti è in cartone riciclato molto più piccola e più sobria rispetto ai precedenti auricolari di jabra che avevo provato e all'interno abbiamo la custodia per la ricarica gli auricolari e vari gommini oltre al cavo per la ricarica che è ovviamente un usb c custodia che è esattamente uguale alle jabra 75t e 85t che abbiamo visto precedentemente a livello di qualità a livello di feeling però si sente che è un po' più cheap nulla cambia a livello di forme e come caratteristiche abbiamo la presa usb c qui nella parte posteriore e un led di stato nella parte frontale che a seconda di come è illuminato quindi verde e pienamente carico arancione si sta scaricando e viola segnala un aggiornamento degli auricolari che possiamo fare tramite l'applicazione gli auricolari sono anch'essi realizzati in plastica e sono davvero molto molto compatti di jabra guardate quanto sono piccoli di jabra mi piace tantissimo il fatto che nonostante la modernità la compattezza e la leggerezza continui a mantenere dei pulsanti fisici vedete qui nella capsula esterna c'è un pulsante fisico questo è strautile nel momento in cui utilizzate gli auricolari per fare sport ma anche quando non fate sport immaginate per esempio l'utilizzo invernale magari avete dei guanti magari avete le mani bagnate a causa della pioggia impegnate beh è più semplice fare un semplice clic su un pulsante che non stare lì continuando a tappare senza che il comando venga preso comandi che peraltro permettono di fare tutto la regolazione del volume la gestione delle tracce la gestione delle chiamate e anche il richiamo degli assistenti vocali che sia quello integrato al vostro cellulare o Alexa selezionabile sempre tramite l'applicazione sono davvero molto compatte in questo caso la forma è molto bella anticipa quello che vedremo con le Elite 7 Pro che saranno degli auricolari di fascia alta caratteristiche altre ci sono ben 4 microfoni due per ogni auricolare possiamo utilizzare sia l'auricolare sinistro che l'auricolare destro in modalità mono finalmente Jabra ha evoluto questa caratteristica delle sue cuffie ed è una cosa davvero decisamente positiva sono tanto tanto piccole ma comunque offrono un buon comfort per quanto mi riguarda ovviamente la cosa è decisamente soggettiva gli auricolari Jabra sono tra i pochissimi auricolari in ear di questo tipo quindi che vanno completamente a quasi tappare l'orecchio che non danno alcuna sensazione di scivolosità alcuna sensazione di poter essere persi da un momento all'altro ed è una cosa non scontata ci sono tantissimi auricolari di questo tipo piccoli compatti che però continuano a scivolare non offrono un fit perfetto ovviamente ripeto la cosa può essere soggettiva perché le mie orecchie non sono sicuramente le stesse di quelle di chi mi sta guardando però in generale tra tutte quelle provate sono quelle che personalmente offrono un fit decisamente più confortevole anche per una lunga distanza le ho provate anche per un lungo viaggio di 4 ore in treno e devo dire che mi sono trovato davvero molto molto bene per quanto riguarda l'autonomia è la stessa delle 75T quindi arriviamo a oltre 26 ore di autonomia con la ricarica della custodia oltre 6 ore di autonomia con una singola ricarica su ciascuna auricolare oltre a ciò basta mettere nella custodia per qualche minuto per avere un prolungamento della vita rifiuta del singolo auricolare la cosa comoda di trovare adesso è proprio questa distaccate magari per fare una pausa per andare in bagno tempo 15-20 minuti avete comunque ancora sufficiente carica per andare avanti per qualche ora detto questo beh come si comportano c'è anche l'applicazione dedicata applicazione molto utile che permette di impostare alcune equalizzazioni a seconda dell'ambiente in cui ci troviamo stazione ufficio casa traffico e soprattutto anche di attivare la modalità ambiente quindi quella che apre i microfoni per farci parlare con eventuali interlocutori senza dover togliere gli auricolari cosa che è molto comoda obiettivamente proprio perché questi auricolari essendo molto piccoli sono un po' poco pratici da togliere al volo se qualcuno ci sta parlando è meglio attivare la modalità ambiente direttamente tra l'altro premendo sul tastino dedicato modalità ambiente che può essere appunto gestita anche dall'applicazione come l'equalizzazione io apprezzo tantissimo se a questo prezzo l'azienda mi offre anche un'applicazione sound plus disponibile sia per apple che per android che mi permette di fare davvero tutto non solo monitorare l'autonomia sia della custodia sia dei singoli auricolari ma anche andare ad agire sull'equalizzazione magari quella di fabbrica dei bassi non proprio presenti degli alti un po' nascosti beh io in questo caso posso andarmi a personalizzare il grafico in modo da cucirmele addosso e questo è sicuramente un pregio che altri auricolari su questa fascia di prezzo sicuramente non offrono la maggior parte perlomeno per quanto riguarda l'audio beh è il classico di Jabra secondo me è un po' migliorato per quanto riguarda la gestione delle basse frequenze mentre sulle Jabra 75T avevamo un suono piuttosto medio in questo caso sulle Elite 3 ho trovato un suono un po' più corposo ai bassi cosa che me le sta facendo piacere anche per l'utilizzo sportivo secondo me il più indicato anche perché hanno protezione IPX5 per cui sono resistenti a sudore e anche eventualmente a qualche goccia di pioggia un suono bilanciato, equilibrato, piacevole che comunque dona quel pump, quella carica di cui abbiamo bisogno mentre facciamo sport buoni anche i quattro microfoni finalmente Jabra ha risolto il problema delle chiamate andando ad agire sui microfoni anche su luoghi mediamente frequentati ovviamente se siamo in stazione all'ora di punta scordatevi che qualsiasi auricolare vi permette di fare chiamate in tranquillità però devo dire che funzionano molto bene riescono a isolare abbastanza bene i rumori di fondo e a catturare bene la nostra voce in modo che l'interlocutore ci senta senza alcun problema ma ripeto per 79 euro non c'è molto di cui parlare sono di auricolari solidi, compatti, ben fatti, ben realizzati e che soprattutto offrono una performance di tutto livello personalmente mi sono piaciuti tantissimo brava Jabra perché hai fatto un paio di auricolari rivolti al pubblico semplici da utilizzare ma estremamente efficaci e questo il bello di provare così tanti prodotti quando c'è quello che più si distingue rispetto agli altri beh sapete ve lo dico mi sono piaciuti davvero davvero tanto vi lascio il link per monitorare eventuali variazioni di prezzo qui sotto nella descrizione continuate a seguirmi iscrivendovi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao